Vi posso spiegare, vi giuro questa volta vi posso spiegare Diciamo un po' per il Natale che non sono stato a casa, un po' per il Capodanno Mancano 14 ore e io non ho iniziato le sfide dei 14 giorni di Fortnite Sono un disastro Mi hanno detto tra l'altro che ci sono alcune ricompense molto ma molto carine Quindi ho detto no dai non posso non sbloccarle Manca solo qualche ora e devo provarci Quindi benvenuti in un nuovo video delle missioni Ah no ne ho completate addirittura due Probabilmente mi sarò sbagliato di sicuro non l'ho fatto apposta Comunque per chi ancora non lo sapesse Fortnite ha messo appunto queste sfide Che ci fanno diciamo un regalo ogni giorno per 14 giorni Questa cosa finisce tra 20 ore Yes, yes Quindi dobbiamo assolutamente farle con la massima fretta in questo video Dobbiamo fare 12 missioni in un solo video Ogni volta che faccio un video delle missioni è sempre più complicato Arriverò che ne so tipo alla season 10 che dovrò completare il pass battaglia nell'ultima ora praticamente Però adesso partiamo direttamente con la prima che è visita bastioni di zucchero Per visitare i bastioni di zucchero ce ne andiamo su esplosivi ad alto potenziale Cosa sta succedendo in questa lobby? Allora noi dobbiamo andare a condotti confusi e... Aspettate un secondo Ce la rischiamo e ce ne andiamo direttamente qui Non so se in una partita ce la faccio perché un bastone di zucchero si trova qua E un altro si trova qua Quindi vediamo un pochino Voilà Eccolo qui il primo bastoncino di zucchero Andiamolo a prendere subito Perfetto Adesso io come vado a condotti? Oh la safe è vicinissima Ma questo? Spara fuoco d'artificio? Cosa è? Oh missione figo Auguri Voglio completare queste missioni entro un'ora Quindi vediamo cosa riusciamo a combinare Mamma mia che stile questo pupazzo di neve Aia Oh no non prendo danno è vero Andiamoci a fare qualche acrobazia In modo da anche fare quell'altra missione Perfetto Guardate qui che salti da pro Oh cavolo la safe Dove sto andando? Dove sto andando? Devo salire su questa montagna Aia 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 No 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 La tempesta la tempesta Saliamo con calma Saliamo con calma Vedo sempre il bastone più vicino Coraggio 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 Oh le Ce l'abbiamo Missione completata E siamo addirittura morti Terza missione dei 14 giorni di Fortnite Completata Dai Secondo me Ce la possiamo fare anche In poco tempo Adesso Gioca partite con un amico La lasciamo per ultima Colpisci il giocatore Con una palla di neve in partite diverse Esistono delle palle di neve Ma io non ho palle di neve Qui c'ho i pomodori Bene ho scoperto che per avere la palla di neve Devo giocare partite con un amico Quindi siamo fregati Lasciamo anche quella per ultima E andiamo ad attraversare i cerchi d'olio Su un X qua l'aereo Il fatto che io non abbia la minima idea Di dove si trovino i cerchi di fuoco Però è un pochino un problema in effetti Non va affatto bene Ok possiamo scappare subito C'è un nemico dietro Vai via vola via Uso un biplano ah addirittura Pure quella era una missione va bene Ora io dovrei andare alla ricerca Visita spiagge snob e parco pacifico in una partita Ma quante missioni sto facendo Vabbè ovviamente non ho completata una dall'inizio della season 7 Io adesso dovrei mettermi a cercare I cerchi di fuoco così però Quando ce la facciamo Oh eccolo figo Ah che poi non è neanche un cerchio di fuoco È un cerchio d'oro vabbè L'ho lisciato non ci credo Mamma mia l'abilità nel pilotare quest'aereo Ok uno di cinque Dai dai ce la possiamo fare Andiamo a vedere se nella zona innevata Ce n'è qualcuno Sicuramente c'è Basta solo trovare Eh 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 l'ho visto Non ho capito perché è scomparso Ma eccolo qua un altro cerchio d'oro Vai e siamo a due Ok eccone subito un altro Mamma mia Precisione Terzo anello Preso Dai ma vuoi che non ce ne sia uno a palmetto paradisiaco Impossibile E invece mi sa che è possibile Non l'ho trovato Eccolo là Eccolo là Eccolo là Perfetto E abbiamo anche questo Let's go Ne manca solo uno Via Schiva 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 Aiuto E Wallah Ole Completata anche questa Oh guardate che carino questo zainetto Bello Mi piace questo qui Comunque abbiamo quittato subito Almeno ci sbrigiamo Perché c'ho troppe missioni da fare Mi sa che stavolta ragazzi È la prima Veramente la prima volta In cui non riuscirò a completare una sfida Usa bombe ballerine o regali E balla davanti a diversi alberi delle feste E completa acrobazie su un veicolo E ringrazia l'autista E distruggi decorazione Secondo voi si trovano le bombe ballerine qui Allora ringraziamo l'autista prima che mi dimentico Ok una di undici Perché dobbiamo trovare le bombe ballerine Che però io non so se Stanno in sta modalità più che altro E anche i pacchi regalo Che secondo me ci sono Quindi iniziamo ad aprire queste casse E speriamo bene Ma sti fiocchetti qui Tipo mi danno qualche missione Oh sì Queste sono le decorazioni Meno male Dobbiamo ricordare di fare anche sta modalità allora Uh Non è vero Eccole Che fortuna Vai lanciamole subito Sbam E Sbam Ok siamo già a quattro Very good ragazzi Qui recuperiamo tutta La situazione grave Mettiamo anche la jump Visto che ci siamo E voliamocene via Io non mi posso coprire Non ho materiale Non ci credo Non ho materiale ragazzi Oh l'ho atterrato Boom 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 Ho atterrato un altro Mi serve materiale Please dammi materiale Ok Porca miseria Aia Mi sono suscitato Mi sono suscitato Sono morto davanti a un airdrop Ok se non sbaglio dovevo anche ballare davanti agli alberi vero? Sì vero Ma non è che ci stanno le granate ballerine? Sì magari Ma poi io non trovo neanche un regalo Sinceramente So che sono leggendari Però Boh Oh oh Un altro focchetto da rompere E un altro anche qui E finisce anche questa partita Fantastico Abbiamo aperto solo casse Praticamente Ha rotto qualche fiocco Arriva dalla tempesta E finisce qui anche questa partita Oh Missione completata Carino questo deltaplano Ma che missione ho fatto? Sinceramente non ho capito quale ho completato Ah cerca forzieri ho completato Bene Non ho ringraziato l'autista Non ho ringraziato l'autista Non ci credo Questo è un fallimento ragazzi Ve lo dico Poi finisce male E qui non ce la facciamo Troppo tempo Veramente troppo tempo Sto andando qui perché c'è un albero di Natale Su cui ballare E poi speriamo di trovare delle cacchio di granate ballerine Coraggio Balla Bene Ed incominciamo ad aprire qualche cassa Dai questa volta lo voglio trovare subito Please Chest Please La venditura ce la portiamo Io denuncio la epic È illegale È illegale trovare tutte cose epiche e leggendarie E non trovare delle granate ballerine Questa è la cassa della leggenda Che mi darà le bombe ballerine Ed anche il regalo E vola Facci questo trick Yeah Non mi da più fai acrobazie Le acrobazie le sto facendo Però Guardate Guardate che bella acrobazia Più bella di così Oh non me la completa più ragazzi Ma questi sono nemici Quanti nemici Mi state facendo impazzire Mi state facendo impazzire Cerca niti Doca vicino all'acqua Non la voglio fare Usa bombe ballerine o regali Fammi stare calmo Balla davanti a diversi alberi delle feste Più o meno La sto facendo Completa acrobazie su un veicolo In diversi luoghi Ah pure in diversi luoghi Allora Dobbiamo continuare a distruggere le decorazioni Con fiocchi di neve Ringraziare l'autista Ballare Usare Aprire Tutto Dobbiamo fare Tutto quanto Andiamoci a fare sta Acrobazia Rifugio di tirato Va Se no qui No 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 Grazie autista Per la terza volta Prima mi sa che neanche ho ringraziato Vabbè Vabbè Va bene Va bene Penso di aver fatto una decina di partite E di aver ringraziato l'autista tre volte Allora Andiamo a parco pacifico Proviamo ad aprire qualche cassa Non so se qui ci sono alberi di natale Non ci sono alberi di natale Andiamo a rompere i fiocchi di neve Prima che qualcuno me li rubi Perché se no Va bene dai Due sono meglio di zero Anche questi sono fiocchetti di natale vero? Questi sono un po' più grandi ma Dovrebbe essere la stessa cosa Oh yes Dieci Undici Non ci credo abbiamo fatto una missione Un sogno Questo è un sogno Questo è un sogno A pinnacoli pendenti C'è un albero di natale Possiamo andare lì Non troveremo casse ormai Però almeno possiamo rompere un albero Cioè ballare su un albero Dov'è pinnacoli pendenti? Dov'è pinnacoli pendenti? Hanno distrutto anche l'albero vero? Hanno rotto anche l'albero Credo che questi siano chiari segni del fatto che io devo terminare adesso questo video e arrendermi al mio destino Non completerò mai? Non completerò mai E poi mai Queste missioni Per favore curami Ci sono delle granate ballerine lì Ci sono delle granate ballerine bro Please 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 Mamma mia Ti regalo No 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 Quali sono granate ballerine ragazzi? Per favore continua a curarmi Ti regalo mille V-Bucks Tutto quello che vuoi Tutto quello che ho ti regalo Non prendete le granate ballerine eh Per favore Bravissimo Bravissimo Grazie Mamma mia sei un grande bro Sei un grande Sei un grande ma io voglio queste Sì Una No è solo una No 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 Ti prego dimmi che ce ne sono altre Questa la vinciamo pure raga E quella la cosa bella Oh lì c'è altro loot Andiamo a vedere cosa c'è Ok 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 Altro loot Altro loot Altro loot No non ci sono Non ci sono Non ci sono Io ancora ci credo Ancora ci credo Tu sei mio Muori Ole Uno atterrato Muori Non le ha Non le ha Non le ha nessuno Giustamente direi Perché chi è così stupido Che si porta le granate ballerine In giro adesso Eccole 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 Sì Sono due Sono due Sono due Uno Altri L'abbiamo fatta Non ci credo Ce l'abbiamo fatta Che fortuna Mamma mia La missione più difficile Che esista Beh andiamo Andiamo a vincere Completato anche questa Pasqua E siamo a E siamo a 3 E siamo a 3 su 6 E siamo a 3 su 6 Eccole qui Siamo a 4 E adesso siamo morti Però Ne manca soltanto una Per fortuna Eccoti qua Oh yes E dopo aver lanciato Il nostro fuoco Possiamo volare Insieme a lui Buone feste No Non ci credo Sono caduto qui E con questa Ultima Missione Io Mi arrendo Accetto La sconfitta Siamo a 9 Spide di 14 E basta Basta Abbandoniamo questi 14 giorni di fortnite Mi dispiace Purtroppo non sono riuscito A completarle Ringrazio fortnite Che continua a farmi Impazzire Con queste cose Noi ci vediamo domani Con un nuovissimo video E Sono sconvolto